Monsignor Arrabbiati, ci apprestiamo a vivere una Pasqua sicuramente del tutto particolare. Che riflessione possiamo fare? Siete venuti a chiederlo a un prete anziano che si ricorda le Pasqua del primo dopoguerra, primi anni dopoguerra, che si ricorda quando è arrivata la televisione e al venerdì santo c'era solo il segnale di Rai 1 con musica sacra o musica religiosa. Allora la mia riflessione di questi tempi è che abbiamo avuto, senza cercarla, perché nessuno l'avrebbe cercata, la possibilità di vivere questa Pasqua riflettendo di più. Le celebrazioni sono forzatamente assenti o comunque arrivano attraverso la televisione, che è prezioso come dono, e allora abbiamo più tempo per riflettere. Fondamentalmente la Pasqua ci parla della sofferenza, del dolore, quello di Gesù, e siamo chiamati a metterci di fronte a questo dolore, a questa sofferenza, per capire che significato ha, ma a metterci con il nostro dolore, con la nostra sofferenza, davanti alla Pasqua di Gesù. Perché è la nostra sofferenza, il nostro dolore che ci fa capire perché abbiamo bisogno della Pasqua. Io ricordo una decina di anni fa, forse, più, sono rimasto colpito nel museo del Duomo di Toledo da un crocifisso e si vedeva crocifisso, normale, Gesù che muore in croce. Poi c'era uno specchio dietro al crocifisso e si vedeva l'altra faccia del crocifisso, dello stesso crocifisso e sulla croce c'era l'immagine di Gesù glorioso, risorto. Sono i due volti della Pasqua e noi possiamo alimentare la speranza quando guardiamo al nostro dolore, alla nostra sofferenza, perché di fronte abbiamo la sofferenza di Gesù che ci salva. Io penso che negli ultimi anni, un decennio forse, abbiamo vissuto la Pasqua da soli, con noi stessi. Quest'anno nessuna televisione ha fatto la domanda alle agenzie turistiche dove vanno gli italiani, quali sono le mete degli italiani. Mi sembra interessante come riflessione. Siamo di fronte alla nostra vita e la nostra vita ha questa verità, quella della sofferenza, della fatica, del dolore, che chiede salvezza, che cerca salvezza e la trova in Gesù che condivide la nostra sofferenza e la trasforma in vita. Una riflessione finale. Questa pandemia ha svuotato la nostra vita di tante cose che prima ci sembravano importanti e basilari, che forse invece sono abbastanza inutili. Pensiamo a molti momenti di convivialità, a tante uscite, a tante cose che ci permettevano appunto di avere una vita, diciamo così, fra virgolette, mondana. Ecco, possiamo in qualche modo sfruttare questo, aver svuotato la nostra vita di tante cose più o meno inutili, per riempire la nostra vita con qualcosa di più prezioso, di più importante? Io direi che dobbiamo farlo. Noi non sappiamo come usciremo, neanche quando per la verità, ma soprattutto non sappiamo come usciremo da questa esperienza e questa esperienza è giusto che segni la nostra vita. Perché quello che ci manca tante volte è la sincerità, cioè la capacità di guardare alla verità della nostra vita. Quello che dicevi tu è che noi tante volte abbiamo tamponato, mascherato tutto questo con le nostre capacità e quando ci troviamo indifesi esce con maggiore chiarezza la verità sulla nostra vita. Questa è un'occasione preziosa che non avremmo cercato, nessuno di noi avrebbe cercato, ma adesso l'abbiamo in mano questa possibilità e dobbiamo cercare di tenerne conto. Non siamo così capaci di dare un senso compiuto alla nostra vita da soli. Lo possiamo fare solo insieme agli altri e per noi cristiani insieme a Gesù, che ci dona la sua vita perché diventi anche vita per noi.